Musica Caro bollette e pannelli fotovoltaici, questo è il tema dell'incontro promosso ed organizzato dall'Università Verde di Torre del Greco e in programma domani alle 19.30 presso la Stecca. Un laboratorio di idee, un momento per confrontarsi e comprendere che risparmiare sulle bollette e preservare l'ambiente è possibile con i pannelli fotovoltaici. Questo l'obiettivo da perseguire e il senso dell'appuntamento di domani. Il fotovoltaico in questo momento è una risorsa importantissima sia per combattere i cambiamenti climatici, sia per fare un passo verso la pace e soprattutto per pagare meno in bolletta, perché il sole non ci manda la bolletta. Le caldaie a gas, le caldaie a petrolio, quello che siano, vanno sostituite con impianti solari. Fatta la spesa iniziale, poi non c'è nessun costo né di manutenzione né di consumo e in più l'ambiente se ne avvantaggia. Dunque l'alternativa per risparmiare c'è? Certo, se noi consideriamo che il 40% dei consumi italiani energetici è costituito dai consumi domestici, se ogni casa, almeno la maggior parte delle case, si dotasse di un impianto fotovoltaico moderno, efficiente, molto meno costoso di un tempo, si risolverebbe almeno una metà del problema in Italia. Ecco, in passato l'installazione di un impianto fotovoltaico era una spesa significativa per una famiglia, adesso invece si è molto ridimensionata. Sì, è vero. Inizialmente, diciamo nel 2003, quando io mi interessai la prima volta dell'argomento, un impianto da 3 kilowatt, cioè per uso domestico, costava 35.000 euro. 13 anni fa, quando l'ho messo, è costato 18.000 euro. Oggi lo stesso impianto, che occupa anche una minore superficie, costerebbe 6.000 euro. Quindi è un investimento mettere un impianto del genere, perché la bolletta elettrica aumenterà sempre. E poi oggi si va anche verso la mobilità elettrica, cioè le auto elettriche. Non possiamo caricare le auto elettriche alla normale presa, perché altrimenti non risolviamo il problema. Se invece abbiamo i cornelli fotovoltaici sul tetto e poi ci compriamo la macchina elettrica, avremo fatto doppiamente il nostro dovere di cittadini che amano l'ambiente. L'iniziativa di domani si inserisce in un ciclo di incontri che periodicamente l'Università Verde organizza e promuove. Sì, è vero. Il nostro interesse è soprattutto preservare l'ambiente, ma anche la pace. Il fotovoltaico risponde ad entrambe queste esigenze. Il fotovoltaico risponde ad entrambe queste esigenze.